bene benvenuti ciao elena eccoci la con chiara e per chiara conto da 51 e ti connetti a chiara più profondamente di quanto tu non abbia già fatto sentendo i suoi punti 5 4 3 2 lucio sì mi senti assi adesso sì hai sentito il conteggio sì dimmi se la vedi e come la vedi allora è lei arriva molto velocemente si va molto enfatica no come per dire ciao dai vediamo chi è che è tornato qua che io voglio andare via esatto chiara ha fatto già una sessione con me ci dà l'autorizzazione sì 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 se hai voglia di andare velocissimi oggi vogliamo provare essi ma vibrazione 100 nostri sono per dire il percentuale di consapevolezza di me la 157 ok vibrazione 7.000 7 miliardi e mezzo psp 53 47 vite precedenti 926 cervello 9,3 ok questa è la sessione definitiva dichiara le altre vite precedenti che abbiamo visto non sono così importanti possiamo fare una sessione tra due giorni e le dite non sono 926 cambiano cambiano di continuo sono vite parallele ovviamente non sono precedenti cambiano un sacco di cose uno può trasformarsi da pecora a leone nella sua vita perché improvvisamente gli va e cambiano delle vite parallele perché tutta una serie di vite parallele che servivano prima non servono più adesso visto che hai fatto un cambio di rotta questo per fare un esempio chiara dopo adesso vediamo tutti i suoi punti ma in ogni caso dopo la sessione sta molto molto bene ma cade nella botola poi in un negozio di persone conosciute cade in un aborto cade nel vuoto cade nel vuoto fa due un volo di due metri e mezzo di fatto non si fa nulla ma si prende uno spavento pazzesco e da lì torna qualcosa andiamo alla botola adesso non sappiamo i dettagli che l'ha lasciata aperta la responsabilità la legge le cose non ci importa causa esoterica di una botola che dava evidentemente in un magazzino da qualche parte nel negozio il fatto che chiara c'è finita dentro allora quello che ho visto mentre parlavi è proprio che questa botola non si apre mai faccio anzi devi proprio andare di aprirla in maniera cioè io vedo quasi che di solito si apre al contrario cioè non può aprirsi di solito ma glielano aperta sotto i piedi e hanno aperta sotto i piedi perché questo era l'unico modo che le entità mentali avevano per poterla per poterle abbassare le vibrazioni così tanto da poter fare entrare l'altra unica interferenza etica che ha chi è è un rettile niente di che ma è entrato lì è tornato lì come si chiama tosto i tolsto i non con la l senza tosto si tosto i perché molto tosto abbiamo qualcuno che ci ascolta si apro solito in tre soliti 3 nel mandale portale dell'oblio via ma si sono scocciati non hanno capito che noi li sentiamo almeno mettessero a posto l'eco che risento mi viene in mente di dove sono questi qua adesso politi italiani si sono italiani comandati dai tedeschi dalla dalla sede in germania a in crisi tedeschi insieme arrivano sempre da quella famiglia la grossi quello che mi ha seguito quest'estate e che l'ho visto con i miei occhi va nel portale dell'oblio e quell'altro che mi ha scritto sul telefono va nel portale dell'oblio e l'oblio anche lui quest'estate ci ho messo dentro anche quelli che ci fanno che ci controlla i telefoni se dalla zona si si anche computer la connessione alla svizzera si sia benvenuto in svizzera beh sono a 300 km dalla svizzera benvenuti svizzera se vuoi chiamare con noi no 300 che notte norma 200 tutti se 150 sono sono tanti non sono al confine ma non chiamare la fama cibo ok il rettile come si chiama tostoi e se i rettili avessero 100 gradi di gravità quindi grado 1 e la lucettolina grado 100 è il drago pazzesco forever rosso nero milanista qual è questo 10 quindi niente perché una cacchina come se crescessero da man mano che stanno dentro preferisco se una cacchina vi si definisce una cacchina no dice come ti permetti noi adesso prendiamo il suo nome tostoi cambiamo tutte le lettere ma mentre le cambiamo se facciamo talmente velocemente che l'anagramma forma cacchina questo suo nome cacchina nuovo nome lui sa fare questa cosa sa cambiarsela il nome lui può dire nome che vuole però adesso è stato ribattezzato cacchina da noi che siamo i suoi creatori quindi lui fa quello che diciamo noi anzi in segno di rispetto e scusa adesso si inchina davanti a chiara fino a toccare con il suo nasino o musino il terreno tutta la faccia e tutto il corpo davanti deve stare sul terreno faccia in giù come si faceva con i papi nel medioevo che si meritavano soltanto non dico cosa lo fa lo fa perché tanto sa che deve farlo come può far diversamente ok cacchina ha messo degli impianti in chiara no non è riuscito e che fa lì ma praticamente è riuscito a entrare di nuovo tramite le due entità mentali che ha chiara ok e collabora con loro ok sono degli dl 2 quindi cacchina e 2 dl collaborano con l'entità mentali che sono una due tre quattro cinque quante sono due due ok vediamole ok di livello 2 è una di livello 4 ok a qual è il compito di quella di livello 2 quella di livello 2 ha il compito di la cosa più o meno che vedo spesso no che fanno spesso e quella di rendere la persona insicura quindi fa di credere che non è adeguata alla situazione che poteva fare diversamente che crea un po i sensi di colpa allora in chiara non vedo tanto questa cosa un po diciamo che non ha quello che fa questa entità del livello 2 non è molto tematica no quindi non è che continua a dirgli non si è capace non si è capace non si è capace non si è capace però magari dice ma sei sicura che questa cosa è fatta bene un'altra volta dice forse se fai così fai del male a quella persona un'altra volta gli dice però così è sbagliato vedrai te lo diranno quindi tutte cose diverse ma che puntano a farla sentire non adeguata insicura dubbi sfumature beh si è fatto bene ma magari si poteva fare meglio qualcuno lo può fare meglio l'altro neona 2 se la 1 è proprio una robetta così la 2 già ok però oggi abbiamo visto i manicomi dove tutti sono legati a entità mentali livello 10 quindi e sono perennemente diciamo in contatto in visione nelle interferenze 10 e sopra il 10 c'è l'entità mentale proposta all'instillazione al suicidio quindi 2 capisci che però c'è anche 14 se la 4 è quella che lei ha da quel giorno di quando aveva 13 14 anni ed è quell'entità lì che sia piazza come se si fosse piazzata nella sua mente è quella che continua a cantare chiamiamo sì ho visto prima mentre le raccontava i punti proprio che come diciamo che fa lo stesso lavoro che fa la prima scena che è venuta è quando c'è un carcerato che lo devono che lo mettono in isolamento non c'era l'isolamento e facevano almeno non lo so e facevano cadere la goccia no per farli impazzire se la tortura cinese si chiama o quello della boccia diciamo che queste entità con le canzoni è una roba un po più morbido ovviamente perché sono canzoni quindi un po più allegro però è la stessa meccanismo no quindi continuare a fare sentire qualcosa non essere mai da sola so come dire se lo chiamano dj mentale ma la 4 come si chiama davvero bit bit mi viene dice bit ma c'è vedo tipo no i 3x bit se sarebbe il bitrate questo si connette a qualche gregora cioè qualche entità mentale collettiva si c'è questa entità mentale che è più più che avere una stessa azione uguale è lo scopo che è lo stesso che è proprio quello che ti dicevano di creare una roba sempre un loop mentale in maniera tale che la persona non possa mai rimanere da sola completamente con se stessa c'è se noi rimaniamo completamente con noi stessi spesso riusciamo a centrarci no quello è una cosa e con questa cosa questo loop la persona praticamente non riesce mai lo fanno apposta per farsi non è mai da sola con se stessa non si può mai centrare va bene causa sottirica della menorrea incostante allora lì aveva un impianto che però è stato tolto è come se senza impianto il rettile avesse attivato la memoria in chiara per far sì che che ci sia la menorrea di nuovo spiegami allora tramite entità mentali gli etl così il rettile riesce a mandare una memoria in chiara a livello cerebrale è come se il cervello riconoscesse con la memoria lì e di conseguenza fa quello che faceva quando c'era l'impianto e quindi provoca la menorrea causa esoterica del dolore al collo non vedo nessuna causa esoterica la menorrea scusami torniamo indietro è scomparsa dopo la prima sessione ma poi insomma in qualche modo il ciclo è ritornato in costante si vede proprio come se il rettile fosse riuscito a riattivare la memoria di quell'impianto capito quindi la reazione fisica è più o meno la stessa fitte al corpo più o meno ovunque lo vedevo prima mentre mentre lo descriveva quando l'entità mentali mandano gli impulsi nel corpo a volte la sua ps riesce come se riuscisse a fermarli e a far rendere conto chiara che c'è quella cosa no è come se volesse metterla in allerta che c'è qualcosa di che non è che che deve essere cambiato quindi mentre passano questi impulsi nel corpo vedo proprio che da quali fanno partire fanno andare così 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 un passaggio no ogni tanto parte un circolo e in questa occasione la ps riesce a far sì che quel che non so vedo prendo un esempio ho visto un esempio no passa e qua a questo punto la ps riesce a bloccare l'impulso l'informazioni che mandano che mandano le entità mentali e riesce a mandare a chiara l'impulso del dolore in maniera tale che lei è come se si mettesse allerta no come se pian piano riuscisse lei a sentire gli impulsi che gli mandano diciamo lo scopo della ps era questo allenarla a sentire l'impulso che passa ea contrastarlo da sola adesso però non c'è più bisogno perché di fatto l'ha trovato la strada più efficace quella di far fare è vero un lavoro noi ma anche un balzo di consapevolezza in avanti ma di testa non è chiaramente forti ma fastidiosi e lunghi impianto mentale e come fatto dove è tipo una piastra qua sul cervello così una chiara però sul cervello se una fettuccia di metallo se la vedi di metallo la vedi fatta di energia si la vedo di energia scusa sino non di metallo tipo un quadrato no di energia di tipo come se fossero corrente no scossa che lo descrive ok va bene chiamiamo nel cinema i figli dichiara l'ex l'ex marito l'ex compagno due persone diverse e tutti quelli che si vogliono presenti i genitori la sorella i genitori sorella figli ex ex marito 7 poi se l'ex marito si vuole presentare con la compagna se se l'ex solo presentare con suo amico cinema aperto gratuito ma ha solo una regola al cinema accetta solo gente interessata se gente che sta lì per fare un favore fuori fuori a passi lunghi ci sono alcuni regali nel cinema sotto il sedile alla fine del film ma bisogna essere interessati non si è qui per i regali ovviamente ci sono loro sette davanti ci sono i due figli e la sorella semessa di fianco ai nipoti poi ci sono i due ex che sono dietro un po più di qua e dietro ancora i due genitori che è più interessato la sorella ok posso dire dove vive la tua sorella so se sarà vive in un'isola delle canarie dove c'è il vulcano che fa il pazzerello la palma da quando è tornata fava un po seggiuno da quando è tornata al vulcano si è alzato si è svegliato il vulcano è in piena eruzione per cause naturali no vedo che come se avessero programmato cioè come se l'avessero scatenato all'inizio sapendo che poi avrebbe comunque continuato a abolire pronti ad a riattivarlo nel caso dovesse fermarsi cioè se se fa lui lo lasciano fare se invece non fa fanno loro e qual è il significato esoterico qual è l'obiettivo era un quel vulcano lì era è proprio era fatto era l'ideale per per iniziare a mettere nelle persone a livello diciamo più che altro europeo così no iniziare a mettere nelle persone l'idea della dell'emergenza ambientale ok la terra si sta ribellando è vero fanno vedere i terremoti gli acquazzoni di quelle tempeste incredibili e vulcani e quali è perfetto se ok i conflitti familiari con i componenti della sua famiglia hanno una causa esoterica marginale nel senso che diciamo le è come se in alcuni momenti le interferenze dei suoi familiari si incastrassero perfettamente con le sue vibrazioni basse per cercare di abbassarla ancora di più e quindi è come se non riesco spiegati però mi è arrivata l'immagine no vedo chiara che fa le sue cose poi arriva magari il papà che le dice no devi cercare quel lavoro lì perché è quello ideale ok per per interferirla e cercare di abbassare le vibrazioni quindi se se lei dice lo prende in maniera molto neutra quindi da una risposta che lo stoppa le sue vibrazioni non si abbassano se lei invece si fa trascinare anche emotivamente quindi magari o risponde ma c'è in maniera di difesa per buttarlo via oppure inizia a macchinare sentirsi in colpa così forse dovrei forse ha ragione le vibrazioni si abbassano e le interferenze che chiara ha perlomeno quelle che aveva di più possono cucciare l'energia quindi è un po come se fosse un accordo si è come se se ci sono degli accordi tra l'entità no nelle vari nei giochini diciamo ci scriviamo la cosa i genitori e la sorella 3 hanno delle interferenze sul cinema a vederlo no vediamole adesso le mostriamo a ognuno ognuno vede le proprie interferenze nel cinema non solo con ma anche l'ex marito l'ex compagno ed i figli queste interferenze interferiscono con noi e ce la fanno se glielo facciamo se glielo permettiamo e anche questo è uno dei tanti motivi per cui ce ne dobbiamo le scatole le scatole a mio modesto avviso esiste per esempio col padre una vita precedente che ha dei legami con questi comportamenti di oggi e queste interferenze del padre di oggi allora allora c'è una vita mi fa vedere una vita dove erano sono stati erano marito e moglie ok e quando quando hanno deciso di diventare marito e moglie hanno lui marito ha lasciato diciamo lavoro lavorava aperti lavorava per un aspetto si ok lavorava per un falegname in una falegnameria che non era sua ok e quando si sono quando hanno deciso di sposarsi vedo sono gli stati uniti hanno deciso di andare tutto in un altro stato cioè vedo che c'è so che succede spesso in effetti quello che mi ha fatto vedere questo ma come se fosse quasi dall'altra parte degli stati uniti hanno preso la loro macchina loro roba sono andati e hanno aperto insieme una falegnameria ok dove lei gestiva un po più tipo i lavori e lui lavorava proprio i lavori manuali e questa cosa non è andata bene non è andata bene perché erano in un momento sociale dove poi tutto è andato a rotoli e quindi loro poi hanno fatto la fame per qualche anno quindi hanno fatto fatica poi a riprendersi e quindi è come se la ps del papà volesse rifare la stessa esperienza qua con lei ma come se la ps del papà volesse mostrare alla ps dichiara che ha ragione lui che bisogna fare così perché se no si finisce come come quella vita la vabbè ecco la madre così solo in due parole si hanno fatto qualche vita assieme ma non c'è non vedo un gancio particolare che c'è in questa vita che c'era in altre vite la sorella no cose particolari no era più papà che era la cosa che mi ha fatto vedere bene ha fatto qualche vita stima con la sorella ma non c'è nulla di uguale adesso va bene ci sono fatti con i figli risalenti a vite precedenti allora ce n'è uno che è uguale per tutti e tre c'è c'è nel cluster di tutti e tre di due figlie di lei ok è interessante perché non è non è niente di c'è molto generale nel senso è come se la prima vita assieme che hanno fatto come se avessero fatto questo patto dove avrebbero sperimentato tutti i tre ruoli in una vita assieme quindi nella prima vita vedo che il figlio era la madre la figlia e la figlia e la figlia era figlio e lei era la figlia sono girati tre si chiara oggi la madre è stata figlia ed è stato figlia ed è stato figlio e così via gli altri due a questo fatto che hanno voluto sperimentare un esperimento delle ps va bene causa esoterica della fine della storia con il compagno dopo dieci anni belli esperienza nel senso vedo che c'è tanta abbastanza differenza a livello di consapevolezza ed evoluzione quindi a un certo punto la distanza era troppo e chiara non poteva più stare di lei vedo proprio che lei ha voglia di costi diventare sempre più consapevole ed evolvere e stando con lui era troppo limitata questa cosa c'è stato un altro episodio di incontro in passato in altre vite parallele sì c'è stato una volta dove però si sono stati ti vedo che si sono incontrati tipo in un in un viaggio dove tutte e due erano lì per via per un viaggio e si sono trovati per tre o quattro giorni poi non si sono più visti ok chiara a la fiamma incarnata chiara la fiamma incarnata si in canada in uomo donna uomo più o meno della sua età più giovane non vedo più giovane e nella città in cui abita ci sono o comunque nei dintorni delle anime affini gemelle allora vedo questa questa ma fattore ce ne sono 5 6 ma quella che diciamo ha spiccato di più è questa acqua e quest'anima qua fine che è austriaca ma fa spesso spola milano è come se avesse fatto vuole vedere che è più probabile che si incontrino a milano c'è più possibilità l'ex marito e l'ex compagno non sono animi affini no va bene causa dei pensieri costanti è sempre l'entità di livello 4 e i scatti di rabbia vedo proprio più un gioco di allora vedo l'interla il rettile insieme ai 2 dl ok ci sono l'entità di livello 2 identità di livello 4 quando agiscono assieme per ci sono delle occasioni in cui è necessario il ruolo di tutte e due per le circostanze ok quindi agiscono assieme gli edl partono come se avessero il comando e insieme al rettile fanno sì che lei abbia gli scatti di rabbia sono i momenti in cui le sue vibrazioni sono molto basse e come se lei avesse la sensazione che o fa così quindi o scatta con la rabbia tutto o sennò perde il controllo e non sa più cosa fare no come se si sentesse in pericolo quindi l'unica cosa che può fare quella piccole dipendenze la sigaretta diciamo che il meccanismo è lo stesso lei ha ripreso a fumare proprio in occasione di un attivazione di meccanismo come questo quindi entità di livello 42 che collaborano in quel momento si attivano tutti e due gli edl insieme a rettile e le fanno passare la vibrazione poi l'entità di livello 4 manda un messaggio vedo proprio che è come se ne avesse mandato un messaggio no se fumi ti passa se fumi ti passa se fumi ti fa c'è proprio un impulso così la goccia adesso vibra ancora sette e mezzo di miliardi questo momento vibra a 25 miliardi ok se adesso a 25 miliardi si accendesse una sigaretta mentre guarda la sessione che succederebbe alla vibrazione va a due milioni e mezzo finita la sigaretta che succede 2 milioni e mezzo poi com'è chiara pian piano si rialza si rialza si rialza poi si mette l'intenzione come sa fare lei per rialzare le vibrazioni torna a 7 mi va da 5 miliardi a 10 varia un po se invece non ci mette l'attenzione arriva magari a 900 milioni 950 milioni quindi si alza sensibilmente o molto sensibilmente la segreta batte tantissimo ma perché allora è come se fosse un canale proprio fisico per l'entità ok quindi è come se avessero trovato un modo diretto ancora più veloce per ciucciare le energie no quindi quando questo meccanismo di dipendenza beh allora già il pensiero della ho bisogno della sigaretta già inizia abbassare le vibrazioni tutto anche la gestualità sigaretta l'accendo aspiro e aspiro ogni volta che aspiri abbassi la vibrazione e loro entrano ciucciano proprio fu proprio così un canale diretto come se non ci fosse un domani esatto in più è un progetto quindi anche un'adesione a un progetto quindi è come firmare un contratto tutte le volte io accendo la sigaretta e io non ho chiamato ma quando si accende una sigaretta con l'accendino si sta firmando di nuovo lo stesso contratto lo stesso patto con delle entità vediamo immaginiamo le entità ma anche le persone umane i gesuiti possiamo dire gesuiti perché sopra ci sono loro quindi c'è un bel tavolo di gesuiti di vecchi schifosi con capelli bianchi che ogni volta che accendete una sigaretta ridono di voi a crepa pelle ridono di voi a crepa pelle perché vi state state aderendo scusate sono violento sono cattivo sono però diciamo le cose come stanno inutile stare le asio lina arla e violino e le azioni e lo stradivari no questi hanno fatto un progetto voi aderite al progetto e vostra scelta basta libertà aderire al progetto però dovete saperlo perché non lo sapete non è un vizio che dovete pure avere è un'adesione a un progetto che poi tra l'altro e questa è una cosa che abbiamo trovato oggi ma che già venuta fuori purtroppo non ancora pubblicata per chiara ma non sarà pubblicata questa si abbatte le vibrazioni va mille volte tanto diecimila volte non so non ho fatto i calcoli ma due milioni e mezzo sta a 25 miliardi come fatti di calcoli eh sì mille o diecimila sono diecimila diecimila volte tanto vuol dire che se uno parte allegro la mattina c'è gente che la mattina la prima cosa che fa e accendesse un sigaret dopo dieci minuti ma vengono i capelli dritti che non ho bene povere povera chiara la vedo atterrita come adesso va a fare un falò di tutti i suoi pacchettini giganteschi cioè di simpatici che ha in casa va bene ci vorrà molto bene philip morris hanno tanto tanto bene e chi se ne frega alla fine bene io sono curioso di sapere due cose sulla musica uno sulla canzone barbie girl che in effetti il chiara ci ha citato come un suo martellone di quelli pazzeschi con cui peraltro l'entità di livello 4 tra bit è iniziata a entrare perché questa canzoncina infernale ma anche pulcino pio è una canzoncina infernale che non se ne va più via dalla testa vabbè le fanno in maniera tale che non vadano via vada più via dalla testa quel specifico barbie girl è proprio anche il senso no quindi te lo dice sei in un gioco un gioco da barbie quindi dove infatti c'è di vedo adesso non mi ricordo se è così ma io vedo loro che nel videotipo fa simono tutti a scatti lui le prese il braccio e le rimane il braccio di bambola in mano come stai scusate bene bene e barbie girl questa è la barbie che si scatena e barbie non rido mai mai fatto river barbie evil in barbie barbie cattiva barbie con l'abito nero e rosso barbie halloween chiama l'archetipo di barbie e abbia già fatto una sessione su barbie ma insomma meglio questa chi è barbie qua arriva un ologramma una gramma che ho mandato da lontano a distanza ok quindi come se che parlo con barbie ma c'è ancora meno delle entità c'è solito ci sono i rettiliani con dietro odino pure zeus cosi no qua non è ancora meno che un rettiliano è proprio un ologramma telecomandato tipo no quindi se io parlo con barbie arriva la risposta da lontano e tra l'ora io vedo un rettiliano però se i voti buon drago un drago che si mostra tutto così essere potente no betti dico ti descrivo qualcuno arriva diciamo barbie è fatta per fare il lavaggio mentale proprio ok e le bambine sessualizzarle si sessualizzarle e stimolare la loro superficialità ok quindi vestiti accessori proprio dalle motivo spostarle dal piano emotivo fin da piccole no infatti non so perché ma a me non è mai piaciuto giocare con le balli prodotte dalla mattel mattel che significa esotericamente parlando mi viene ma allora mi è venuto madre tra in inglese che però tipo madre e televisioni non so come dire la madre delle televisioni della teccia e la televisione madre ovvero la il controllore supremo se c'è la soluzione migliore per diciamo la migliore televisioni no senso quello che che mi è arrivato è la più efficace la più potente quella più ripetitiva quella più attellante sì esatto ok come in qual è il motivo per cui cioè l'entità 4 ha aspettato l'uscita di questa canzone per provare a entrare in chiara ci ha provato prima con altre canzoni non c'è riuscita in ogni caso perché questa ha funzionato come dire il l'archetipo barbie oggetto l'archetipo barbie ha una forza una potenza che altri archetipi non hanno contenuti in altre canzoni dove si parla di love dove si parla di believe dove si parla di credi ti ho lasciato mi hai amato si beh ma quello non è molto meno qua è proprio barbie girl oltre appunto quello che vedevo io erano solo c'è l'archetipo barbie l'archetipo robot e l'archetipo controllo esterno tutti e tre assieme quindi era era proprio potente e perché gli acqua la cantano con la q senza la c l'unica parola nel mondo che significa in italiano acqua h2o erano molto preciso l'immagine del gruppo plasticosa colorata il logo del nome del gruppo il nome del gruppo acqua azzurro pollicine si è proprio ripeti allo che avevano l'obiettivo che avevano era proprio quello di 22 obiettivi mi sono arrivati era proprio quello di entrare nella mente dei ragazzi come un fiume quindi con impieto come un fiume e l'acqua mente la mente è infatti e spazzare via e l'altro obiettivo proprio spazzare via tutto ciò che c'era nella mente dei ragazzi e sostituirlo con quello che loro dicevano e facevano vedere bene altra curiosità il trap preoccupa un po mamma chiara prende il figlio soprattutto di cui io non so niente ma tu sei qualcosa di più di ma un nuovo genere musicale abbastanza mattellante abbastanza incomprensibile ma di molto successo senza senso ma cerce sì probabilmente semplicemente studiato a tavolino ma di musicale secondo me non ha niente cioè è proprio studiato a tavolino per portarli anche qua è un nuovo meccanismo un nuovo direi che potrebbe essere lo stesso progetto di acqua degli acqua ok per i ragazzi per le 20 dei ragazzi di adesso più più sullo stile del dello schermo no del computer più tecnologizzati segnalo cioè come c'era quasi quegli anni i millenio neanche millenio secondo si chiamano quelli dopo 2000 sono un altro genere di target si è proprio vedo proprio come se venisse ripetuto nella nella in una canzone trap è proprio come se venisse ripetuto lo schema 01 c'è una roba molto digitalizzata digitalizzata che ha una sola direzione va bene perfetto ci manca la gamba stanca abbiamo finito e possiamo lavorare ma la gamba stanca non soffri tu soffre l'ex o anche tu solo d'ex ma qual è la causa in generale della gamba stanca cioè di quella gambetta che si muove il ginocchio va su e giù quando si è seduti e quando sia un po tesi o mille altri motivi è un altro dei meccanismi che usano le entità mentali per abbassare tenere le vibrazioni bassi della persona allora vedo in generale ma vedo in questo caso ci sono due entità mentali una che manda il pensiero non sono in grado quindi sono che sono teso perché non so se se riuscirò a fare questa cosa e l'altra entità mentali che mi manda l'impulso fisico nello stesso momento così vibrazioni rimangono bassissime e agiscono anche a livello fisico per frenare come se muovendo così la gamba la persona si sentisse un po più bloccata no quindi a disagio ancora di più l'ex compagno lo sta vedendo bene adesso al cinema si divertono perché facciamo una cosa nuova creiamo la palestra esoterica infinitum apriamo le porte a chiara della palestra esoterica infinitum dentro ci sono da vari attrezzi varie creazioni la prima è la d'eternum e lì sotto una tecca lei può andare ad alzare la tecca guardarlo e capire da sola come crearne uno suo questo piccolo sole che lei può creare non staccandolo dalla sua vibrazione ma creandolo da lei stessa che è infinita vibrazione e dando a questa sfera la possibilità di emettere vibrazione ad altissime frequenze per sempre ad eterno ne ha acquisito il know how la consola altra tecca una piccola una bella pillolona caramellona fatta di tre parti vibrazione vi informazione delle sessioni e consapevolezza c anche questa lei la può creare da sola e acquisirla e di infine ultima arrivata eterna frequenza dimmi come la vedi vedo ma come se fosse una spirale di nuvola una cosa così viola sì così quindi continua essere spirale intorno a seno che diciamo è dinamica ma ferma no che è lì pronta per essere attivata da ok questa l'abbiamo creata quando qualche giorno fa abbiamo avuto una persona con che ha avuto la bella idea di far di cinivaccarsi per crearsela e ti attivarsela occorre una grande consapevolezza chiara non serve perché non ti sei cinivaccata giusto ok non ci pensa nemmeno per ora possiamo modificare per la sigaretta dicevo la possiamo modificare per la sigaretta quindi per il cinivacc la eterna frequenza serve a tenere costantemente in maniera artificiale comunque maniera obbligata non artificiale alta la frequenza in una persona così che quando attiveranno dei meccanismi che permettono a quella quello che c'è dentro il siero di fare casini nel corpo l'alta frequenza del corpo che è già presente inibisce il come dire il lavoro di danneggiamento del corpo di questi nano robot sostanzialmente siamo qua a puparle siamo qua a dire stupidaggine ovviamente perché è tutto esoterico eterna frequenza serve a questo però possiamo dire che eterna frequenza può servire costantemente a chiara se decide di crearla e di metterla in sé un'alta frequenza che la dissuade dal fumare la sigaretta e questo costantemente in modo tale che quando dovesse venire fuori non tanto un'entità mentale quanto una memoria e un'abitudine il famoso vizio l'abitudine il gesto tutti quelli che mi dicono gli ex fumatori fumatori mi dicono il gesto che mi frega quando dovesse succedere lei è sotto costante vibrazione contro cioè uguale ed opposta con segno opposto a questo desiderio di fumare è possibile l'eterna frequenza per si è come se si fosse creata una tecca parallela no quindi come se non c'è un'eterna frequenza per ogni esigenza beh possiamo crearla per civa e si fa per la sigaretta per il vizio del gioco per il vizio dell'alcol a quante creazioni oggi questa è la palestra infinitum lei vuole la tessera platinum eccesso alla palestra in realtà deve venireci una volta sola si piglia tutta l'informazione per creare tutte queste belle cosine e non deve tornare più non deve venire tutti i giorni o tre volte settimana ma quattro volte settimana lo fa sì 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 ok ma allora abbiamo creato super chiara che fa tutto adesso da sola cosa fa sta prendendo l'eterna frequenza inserendo vedo che l'ha mandato proprio va proprio inizia a lavorare ok questa quindi questa spirale viola che gira intorno a sé quando è ferma quando entra inizia a fare spirale e vedo che è andata alla mente di chiara che quindi nel cervello che è tornata giù è andato fino ai bronchi polmoni poi continua su e giù così passando ovviamente che per la bocca tutto vai cluster da solo sì e che fa cosa vede ci sono dei contratti tanti pochi no ce ne sono pochi sono 25 25 vedo quello con il papà vedo quello con i figli vedo quello che adesso ha rifatto con il rettiliano e vedo quelli di identità mentali e cina qualcuno di qualche altra vita ma non c'è le ticci tutto che fa mi tiene non ho però non fruttare definitivo e sta buttando dentro ok ha chiuso sta creando un rato eterno e la messa nel cluster questa si sta sta avviando verso lentamente perché va da sola ma è come se volesse che andassimo anche noi no e quindi si sta dirigendo verso l'avatar vedo vedo come al solito uno spicchio che rappresenta appunto l'entità mentali principalmente dell'avatar e si è riaggiunto ecco qua vedo un po diverso dal solito nel senso che vedo la parte così no laterale che quella riguardante l'entità mentali e poi se ne è creata un'altra parte piccoli un altro spicchio un po più in là che quello riguardante la l'interferenza del rettiliano il resto è solo ok via tutto ad eterno nel cluster e andiamo all'avatar già fatto tutto quindi ha messo due ad eterno nostra sta prendendo il portale definitivo dell'avatar che l'ha buttato dentro lo vedevi integro l'avatar questo lo spieghiamo praticamente immaginate l'avatar come una torta piano a forma di uovo di uomo e quando lo ritroviamo a volte che una sessione di controllo pulizia finale come la tua lo troviamo come se fosse stata lasciata una o due fette di questa torta forma di uomo quindi a volte pezzo di qua una volta è un pezzo di corpo con un pezzo di braccio con proprio proprio cosa su un laser che taglia quello che succede su quello che resta insomma quindi anche dei piccoli spicchi di di una sagoma alla fine ok fatto se lasciamo chiara si può creare un ad eterno eterno ma adesso in cinque coppie uno per il corpo fisico mentale subliminale eterico emozionale c'è traccia di rettiliani odino zeus impiantucci e dl entità mentali ok le vite quante sono sono adesso 221 quasi un quinto con cui tra un quinto e un quarto la vibrazione con te 58 miliardi la consapevolezza 223 un forno metallurgico è diventata non sono mica chiara la ps la pie 62 e 38 ok un po sbilanciate ma si sistemano sì 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 tra le vite l'abbiamo visto cervello 9,3 10,9 sistemi per aumentare tecniche per aumentare questa percentuale nel caso di chiara tecniche che cambiano di caso in caso c'è chi canta c'è chi disegna c'è chi si concentra c'è chi prova la tele cinesi c'è chi carezza gatti ed è stato fatto vediamo grande casa ai gatti la ps mi indica questa immagine come se chiara dovesse mettere delle palline per terra tutte in fila ok può magari disegnarle può magari disegnare dei cartoncini con queste palline e che diciamo indicano la strada che le vuole prendere quindi ogni volta che si può allenare in questa maniera scegliere uno dei suoi obiettivi a breve termine no le prime volte può farlo tipo che ne so dove andare in mario se quando pulire l'armadio dove andare sabato e ho due scelte c'è proprio stupidaggini ma come allenamento va bene e dice vado in montagna allora lei fa una linea per terra con questi cartoncini con questi cerchi che sono da lei alla montagna ok e fai passi sulle varie cerchi e ogni volta che fa un passo su un cerchio immagina di illuminarlo a step se ti chiariamo in montagna esattamente quindi illumina sempre il primo passo ok ma poi lei va in montagna si deve andare in montagna cioè lo fa come rito diciamo come processo in casa e poi va in montagna sì sì certo nel senso segue l'obiettivo esattamente pulire l'armadio incasinato fa tutta questa cosa e poi pulisce esatto ma vedrà che gli era molto semplice a quel punto pulirlo per esempio ma con che scopo in questo caso quello del cervello sì quello del cervello si centrarsi con la ps il più possibile quindi ogni volta che lei immagina di illuminare il cerchio aumenta la vibrazione entra sempre più in contatto con la sua ps e quindi aumenta anche il cervello un'altra cosa più in là man mano che lei si allena può alzare la sticella dell'obiettivo tra virgolette ok e quello che vuole dire la ps è che se lei continua ad allenarsi così sempre con le condizioni di oggi di adesso me la fa vedere fra cinque anni che lei riesce a spostare gli oggetti però come se oggi si giumbia e quindi a un 15 16 per cento di utilizzo del cervello ottimo controlliamo la casa non c'è niente no 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 ma non c'è niente ci sono i figli ok tra e roba loro anche i gatti li vedo tranquilli sono niente puliti si al cinema che succede sotto il sedile di tutti se sono contenti e felici non sono andati via c'è la vick e l'istruzione per crearsi una d'eterno ci sono ancora tutti i figli adesso sono tutti entusiasti quasi diventati più entusiasti della sorella un po no questo spirito più giovanile che si lanciano prendono tutti le istruzioni la loro vick allora i figli la sorella lo creano gli ex compagni se uno decide un po ma poi lo crea e i genitori poi tracciati ma lo creano anche l'ora ok ci rimane un'ultima cosa che chiara in realtà non ha chiesto ma che io farei lo stesso prima del messaggio finale della sua psp apriamo un portale aureo molto grande e le facciamo mettere davanti una d'eterno fatto apposta per richiamare tutti quelli che lei ha perso in questo periodo c'è stato un amico un cugino un genitore del cugino altri due amici dei clienti di un vecchio lavoro un sacco di disincarnati che se ne vanno in giro che non sanno cosa fare che non hanno capito accendiamo questo ad eternum davanti a questo portale ancora vediamo chi si presenta se quelli che lei ci ha descritto citato velocemente se anche altri si vede arrivare arrivano i 35 incarnati l'està a trieste chiamiamo tutti i disincarnati che stanno a trieste no arrivano tantissimi quanti 25.000 ok vanno tutti veloci vanno 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 quasi che si rivaltano controlla cioè ovviamente l'interico non è possibile però la scena un po questa no come se arrivasse una nuvola di disincarnati tra i suoi amici conoscenti c'è qualcuno che vuole dirle qualcosa c'è uno un ragazzo con i capelli corti vedo che a mano un casco vuole dirle mi sono ritrovato qua così ma poi ho capito che era la mia scelta di esperienza ho visto chiaro che era la mia scelta di esperienza quindi sono tranquillo ti ringrazio avermi dato questa opportunità c'è qualcuno che è morto in un incidente di moto chiara se uno ok messaggio finale dichiara a se stessa la sua ultima sessione di sempre hai tutti gli strumenti ora se li avevi già anche prima ma adesso non c'è più nessuna nebbia davanti a te che te li nasconde davanti a noi davanti a tema che li nasconde e quindi adesso hai tutti gli strumenti per andare dritta segui sempre le tue intenzioni e cerca di nominare tutte tutti i cerchi che hai davanti a te da sarà la strada migliore buona esperienza insieme dice come vedi chiara adesso se la vedo molto più rilassata più bianchi lucente bianca e leggera ok abbiamo finito sei pronto a tornare conto da una 5 al 5 sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando 1 2 3 4 e 5 apri lentamente gli occhi ciao ciao a tutti bene ciao chiara brava è già attivato siamo ancora in registrazione ciao che bene ciao ho caldo non serve riscaldamento oggi oggi abbiamo risparmiato anche quello grazie ragazzi e va bene veramente grazie è stato bello adesso sono sto bene sono sto bene proprio mi sento veramente rilassata ci sono stati certi punti della sessione che proprio coincidevano con quello che pensavo con quello che avevo supposto attivo si 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 sia con l'ex compagno insomma che altre cose che con il mio papà per esempio bello grazie e il casco chi è si possiamo dirlo al nome lo lasciamo il nome si è stato un incidente in moto si 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 è schiacciato proprio da solo sa proprio non ha avuto neanche contatti con niente proprio dato grazie scontenta che abbiano approfittato voglio voglio sapere se finanzierai ancora la philippo morris c'è questa cosa che vi cambia vi taglia le gambe mi è venuta in mente qualche tempo fa per caso la cliente si è scesa la sigaretta avevamo appena visto la la frequenza no e non era bella bella importante 4 miliardi se appena c'è stata la sigaretta e faccio adesso quant'è lei non lo sapeva e non sapeva è detto è 3 milioni la grete vado a che non sento proprio lo sento proprio che ogni volta è così ed è come appunto questa roba che diceva aspettava fuma ma fuma ma poi il senso di comunque di schifo ce lo capisco capisco che era quello quel senso di schifo era perché appunto la liberazione ma sa molto poi ogni giorno è anche una cosa ai dei figli piccoli sì non fumo mai comunque con loro è però però la rosa fuma la mamma fuma sì 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 no allora mi vedo praticamente mai però però quello che voglio dirti è che la mamma fuma quindi comunque un esempio certo sono è un modo per creare dei figli fumatori e la mamma che fuma che fuma perché l'esempio è quello poi e poi è veramente difficile dissuaderli no perché ma come tu sì o no sì 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 veramente ragione giusto sì sì poi va bene non è che siamo qua fare solo quello però anche quello serve va bene chiudiamo qua con la registrazione e grazie chiara grazie a voi ci sentiamo io ti scriverò insomma magari anche per una bella testimonianza perché dovremmo riprendere a farle non abbiamo tempo neanche di soffiarci il naso delle belle testimonianze servono le abbiamo mail in mail però non possiamo già la testimonianza una testimonianza parlata no quindi in video censura che volete ma comunque è una testimonianza va bene state ancora un attimo in linea ciao a tutti grazie ciao 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 ciao